salve salve a tutti cari amici e non e benvenuti o bentornati qui sul mio canale faver 91 oggi parleremo di un albo veramente ragazzi veramente ben fatto ora veramente sfido chiunque sfido a dire che queste sono le storie che vanno hanno senso queste sono storie veramente hanno un appiglio hanno una scrittura fatta bene hanno dei grandi disegni hanno dei picchi narrativi e hanno soprattutto mordente di veramente hanno quella cosa di appassionarti e di farti leggere e di non annoiarsi mai perché chi si annoia davanti a questi albi esattamente nel numero 289 intitolato cacciatori e prede e poi non riesco a capire come faccia ad esempio che ne so a non frantumarsi le palle davanti a un martin mistero e che queste sono storie intrattenenti fatte bene che passano da un pillo ad un altro in un modo veloce no con 300 balune che la prolissità è sempre solo il male chi ama la prolissità si leggesse i romanzi e che i fumetti sulla prolissità rovinano e basta cosa che invece non accade in questo numero che io consiglio a chiunque di leggere perché ci mostra come una storia che inizia in un modo poi nella parte finale si trasforma e diventa un'altra e quindi gli autori sono bravi a mischiare queste due cose senza creando quindi pathos nel lettore cioè ragazzi queste ecco quando io critico le cose e quando vedo delle cose fatte male in tanti altri voglia perché poi quando vedo certe certe sceneggiture che si sanno fare e che queste qua non devono perché non possono e non si devono criticare perché se criticate questo e poi luciate storie come zago per vedere zago e the martin mister si dimostra di essere solo fan di un personaggio e di non fare la giusta analisi la giusta osservazione su delle levate scritture e questa storia qui ragazzi veramente che è impossibile non divertircisi è impossibile che non trovarla fatta bene perché oggettivamente è scritta bene ad esempio questa storia qui mangia in testa all'ultimo martin mister che è qualcosa di veramente inconcepibile indifendibile è impiacibile veramente un po' manco piace secondo me una storia del genere però beh torto questo perché vi baso su dati oggettivi e ragazzi allora io veramente questa storia qui cacciatore e prede è una storia che io avevo un grandissimo hype perché dalla trama che poi un hype perché è stato largamente superato ragazzi allora ragazzi storia del bravissimo claudio falco disegni di michele crope cropera cropera qui insomma ragazzi tra l'altro mi è piaciuta anche la copertina di eneari volvi guardate che bellezza ah ragazzi questa storia di dampier diciamo andate dal tratto com'è particolare com'è una classica storia di vero autore i classici copiatori di un vero autore che porta la sua arte questa storia appunto che ci racconta è molto intrigata ci sono molti fatti non è intrigata ci sono molte cose delle quali dire quindi insomma ragazzi cercherò di non fare troppo per lungo ma è difficile ah ragazzi c'è questo ovviamente c'è un inizio con questa uccisione questo ex sergente che sta male che viene ucciso da questo Benjamin Dunn che in realtà scopriamo essere in realtà già morto prima quindi com'è possibile che ci sia lui che lui faccia questo omicidio e che questo Benjamin Dunn fosse stato proprio quando appunto era in vita ucciso da questo sergente perché aveva commesso uno stupro ok quindi insomma in questa casa dove puoi essere andato a fuoco ok quindi siccome è una cosa un po' strana e poi c'è di mezzo anche il detective di Scott Laiard Fane che insomma è un detective molto speciale insomma Arran e Curgia che vengono insomma chiamati perché c'è qualcosa che non quadra tra l'altro le atmosfere di questa storia è una storia che ti lascia molto sul suspense sul thriller sembra una classica storia tutta quanta veramente che ti incude abbastanza non dico terrore ansia ecco poi scopriamo che questo sergente c'è un figlio che è amico di un sindaco e di uno che c'è questo 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 locale dove si beve la birra e che lo quindi questo figlio diceva è possibile che che questo Benjamin sia ancora vivo tipo se poi è morto uno pensa ci stanno in mezzo ovviamente i maestri della notte e quindi iniziano le indagini sia del figlio del sergente appunto sia delle di Fein infatti i due poi dopo vanno subito in litigio e dice perché tu litighi una cosa del genere quindi scopriamo ci viene detto poi e intendiamo che il sindaco appunto il figlio del sergente o rispettore e quello che sciarpabbe siccome bullizzavano e il povero Benjamin che vediamo all'inizio ma che in realtà è morto magari ci potrebbero state le cose non dette infatti poi questi i fantasmi tra virgolette anche delle due ragazze che erano state stuprate vanno a rompe proprio vanno a rompe vanno proprio uscite gli altri due e quindi ragazzi qui parte tutta un'indagine di misteri di cose veramente intrattenente una scrittura che è impossibile non seguire con trepidazione perché la scrittura qua non ha alcun difetto queste sono storie che sono scritte bene no i martini misteri che vengono elogiati prendete spunto da queste storie che non sono prolisse non sono confusionari tengono una linea e che poi dalla parte finale sfocia con un colpo di scena clamoroso clamoroso ragazzi ma guardate le tavole guardate come la sospanza regna ecco queste sono storie che non vengono cagate il giusto ma che dovrebbero essere imparate prese come spunto per fare storie queste sono queste sono non quello che voi loggiate per gusti i vostri gusti sono una cosa l'oggettività di una scrittura ben fatta è un'altra e ragazzi questa storia è imperdibile perché poi ci catapultiamo in un altro mondo perché ovviamente se parla di rampi c'è stato in mezzo tante altre cose e quindi ci sono delle tra virgolette poi non voglio spoilare più tanto delle entità i famosi cacciatori nel multiverso quindi si cambia si passa a delle cose a degli alieni nel multiverso sì c'è un riferimento a una storia effettivamente alla storia del numero 177 che io ho letto e che conosco però io mi sento di consigliarla anche se non si è letta quella storia lì perché comunque poi alcune cose ci vengono spiegate nonostante vedete ci siano delle balunne ma non è non è quel prolisso che te rompe no no è una storia che nei dialoghi e in quello che accade ti lascia veramente col ferro sospeso e mi piace proprio questo perché se all'inizio era un thriller magari sui fantasmi che poi sembra sui vampiri poi con questo cambio in cui ci sono di mezzo appunto questi cacciatori del multiverso ragazzi c'è soltanto queste scene e qua guardate qua che bellezza quando poi si cambia e il nostro Arlan e Kurja che si trovano al cospetto di questi esseri che conoscevano e che quindi loro diciamo così si sono messi in mezzo a questa questione per avere una sorta di divanza verso Arlan e Kurja che con queste due storie che si che si sovrappongono con poi un colpo di scena con Feine ragazzi ma guardate qua cioè veramente quasi va a alti livelli cioè questa qua è una scena da sette e mezzo cioè veramente ragazzi soltanto perché mi fa quel cambio perché è bello passare da un thriller una cosa nel multiverso con gli alieni con i cacciatori ragazzi veramente io sono rimasto sorpreso ha letteralmente superato le mie aspettative questa storia io mi aspettavo una classica storia così invece ragazzi nella parte finale accadono queste cose c'è questo cambio in cui poi i nostri Arlan e Kurja che sembrano che rimangono in questo multiverso e infatti ho detto no ma è spettacolo vedere che Dampiri ha delle potenzialità assolute ma vabbè questo si sa e quando vengono sfruttate anche se c'è un picco rimandano la conti ma questa storia è imperdibile ma veramente se parliamo di tecnica di artisticamente scrittura è perfetta perché tu mi passi da un thriller fatto bene col ticchie da l'ansia con dei personaggi affini con delle cose e poi mi passa un'altra cosa e lo fai con questo piglio questa storia non si può criticare chi la critica non capisce non capisce come si fanno le storie di scrittura perché veramente ragazzi e anche i disegni accompagnano in un modo egregio questa qua è una storia veramente imperdibile se parliamo di tecnica di come si scrive un fumetto questo qua mangia in testa all'ultimo martin mister che è completamente indifendibile che rompe le palle ecco questa qua è veramente una storia scritta veramente bene con dei cambi con un thriller che parla di un qualche cosa che si mischia con un'altra cosa ancora e che nella parte finale con quel colpo di scienante famvi di voglia e andavanti a leggerlo lì lo vorrei leggere subito perché esattamente mi sono nella lettura ragazzi ma queste sono le storie fatte bene e quelli che padano 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 ma fanno i giusti hanno i giusti criteri secondo me non scegliano perché questa storia qui nonostante abbia un riferimento a una storia perché questi personaggi vengono già da una storia passata ma se capisce e ripeto ragazzi la parte centrale inizia come un thriller che perlomeno sale aumenta 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 fino a diventare un'altra cosa che ragazzi ti viene col ferro sospeso poi l'altro tra l'altro come avevo detto l'altra volta le copertine ad esempio questa copertina lo torna molto più bella rispetto a quelle ultime che fa riboldi che a volte mi fanno pazzia a volte mi piace questa è carina la prossima ragazzi ancora più bella guardate un po' qua nella prossima abbiamo addirittura due stagnerie primi di memoria piombano in un mondo alieno ragazzi e la sorte li mettono uno contro l'altro come faranno Adam e Kurchak dispersi del multiverso a ricordarsi che storia dove la storia di casa ma ragazzi eccole lo vedete che i bravi sceneggiatori ci sono e le storie scritte oggettivamente e tecnicamente bene ci sono io sarei una storia brutta ma avrei detto ragazzi no invece nonostante ci sia anche un collegamento a una storia precedente si capisce è scritta benissimo a delle atmosfere che ti incudono ansia un thriller che poi diventa con questi calciatori del multiverso che so qualcosa di fenomenale i disegni le chine so qualcosa di meraviglioso ragazzi io sfido a dire che questi non sono disegni di un autore che fa la sua arte che copia quindi insomma ragazzi tra l'altro lo fa anche bene perché non ci sono grandi tavole però ragazzi guardate qua anche il dettaglio la pioggia insomma veramente le sequenze sono fatte benissimo e beh per lo mio falco io lo conosco è bravo a scrivere ma i disegni guardate quanto è bello questo kurja che brude cioè veramente veramente io mi rimango senza parole questa è una storia per me imperdibile guardate qua ragazzi la scena questa qua veramente ragazzi io non so cos'altro dire ma questa è una storia che va a letta questa è una storia che meritano l'acquisto per tutte queste cose cioè quindi per me è imperdibile questa storia veramente nonostante a volte ci siano un po' di balone ma cioè veramente non ho niente da recriminare veramente sì c'è qualche pagina così ma ma veramente ragazzi veramente una storia che ha letteralmente mi aspettavo una storia se è in mezzo invece no ha letteralmente superato le mie aspettative con quel colpo di scena ma aspettavo e che ragazzi ora sono veramente curioso di sapere come andrà a finire perché veramente adesso mi patete molti versi di viaggio poi accade anche altra cosa che non vi dico ragazzi veramente veramente spettacolare guardate alla casa veramente spettacolare mentre ragazzi non potevo non farci un video perché è una storia bellissima oh ragazzi lo vedete che quando si vuole le storie belle si è in grado di farle ecco un esempio ragazzi quindi ragazzi fatemi sapere voi nel commento se la recuperate se parliamo di tecnica oggettiva di scrittura e dei disegni è intoccabile è inchinicabile perché se poi criticate questa dovete poi strappare i zagore e che ne so se criticate questa è un zagore che esce e un martinmester che esce l'altro questo lo strappato ho fatto io perché se quelli vengono loggiati questo qua che fai no poi non puoi lo loggiarlo perché a gusti non ti piace perché questo qua oggettivamente è fatto molto ma molto ma molto ma molto meglio di quei due dell'ultimo zagore e dell'ultimo martinmester messi insieme e questa è una cosa oggettiva quindi ragazzi niente altro da dire recuperatelo se volete leggere una vera storia dei drill e delle suspense fatta bene fatta come come Cristo comanda e non vedo l'ora da andare avanti cioè se questa se già all'incipit tra virgolette poi manco all'incipit perché se chiudono le cose se ne ha per l'altra a seconda non lo so se questo è il livello a seconda sarà il top qui ragazzi aspetto con trepitazione il prossimo numero Dumpy rimane sempre una delle più belle e più belle e migliori testate in Morelli punto